Come tornare ad allenarsi dopo il covid? Ciao! Finalmente è arrivato il momento di tornare ad allenarsi in palestra e così molti di voi in questi giorni mi hanno contattato per avere delle dritte su come ricominciare ad allenarsi al meglio. Sono Luca Dallavalle, Health e Performance Coach e dal 2004 studio ed elaboro strategie altamente personalizzate perché ogni persona possa sentirsi forte e vitale ad ogni età. E oggi voglio darti alcuni suggerimenti per tornare ad allenarti in palestra al meglio. In questo particolare periodo storico le persone si sono suddivise sostanzialmente in tre categorie. Chi è diventato completamente sedentario, chi ha cambiato tipologia di attività fisica e chi invece ha continuato ad allenarsi con i pesi anche se in maniera ridotta a casa. Ovviamente ognuna di queste persone avrà delle necessità diverse nella ripresa degli allenamenti in palestra. Quindi cercherò di dare dei consigli che siano utili a tutti. Come prima cosa serve iniziare con quello che si definisce periodo di adattamento, cioè un periodo che permetta di riprendere confidenza con quelli che sono gli allenamenti in palestra. È opportuno concentrare il lavoro sui gruppi muscolari principali, quelli più grandi, cercando di non arrivare mai all'esaurimento muscolare durante le nostre ripetizioni. Gli allenamenti migliori per le prime 3-4 settimane sono quelli definiti total body, cioè dove vai ad allenare tutto il corpo e che non devono però superare l'ora di allenamento. Questo tipo di allenamento va bene anche per chi ha continuato ad allenarsi a casa, perché in questa fase può dedicarsi a perfezionare quella che è la tecnica esecutiva. Ti ricordo infatti che la tecnica è fondamentale se vogliamo ottenere dei risultati tangibili e soprattutto massimizzare gli sforzi che facciamo durante i nostri allenamenti. E così se ti farai trovare pronto, quando sarà il momento di aumentare i carichi, vedrai che l'allenamento risulterà più efficace e otterrai più facilmente quelli che sono i tuoi obiettivi. Per quanto riguarda invece la frequenza, l'ideale è iniziare con due allenamenti a settimana in palestra, a cui aggiungere uno o due allenamenti di tipo aerobico, come ad esempio la camminata, la corsa, il giro in bici oppure il nuoto. Bene, direi che adesso sai come riprendere ad allenarti in sicurezza in palestra e ricordati che non è la fretta ma è la costanza che permette di ottenere i risultati, perché essere attivi e vitali è una questione di scelte.